Siamo quello che mangiamo. Un'alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per la salute e per il benessere. Pensate che il 30-40% di tutti i tumori potrebbe essere evitato con un'alimentazione sana. Al contrario le cattive abitudini alimentari ci predispongono a moltissime patologie. Pensate che 3 tumori su 10 sono correlati alla cattiva alimentazione e pensate ancora che gli alimenti ricchi di grassi animali sono correlati a tumori al seno, al pancreas e anche alla prostata. Migliorare l'alimentazione significa migliorare la nostra vita e significa aiutare nella prevenzione e nella cura di moltissime patologie. Ma la domanda fondamentale è cosa significa mangiare sano? Significa limitare o anche escludere gli alimenti di origine animale preferendo quelli di origine vegetale, cereali, legumi specialmente integrali e soprattutto una grande abbondanza di frutta e di verdura. La politica che guarda al futuro, alla salute dei cittadini, agli interessi dei cittadini è una politica che fa educazione alimentare. Un'educazione alimentare che va oltre gli interessi delle lobby e dell'alimentazione e che tutela finalmente la salute dei cittadini. Se pensate che sia importante tutelare la vostra salute e quella dei vostri figli dovete informarvi. Noi del Movimento 5 Stelle facciamo la nostra parte. Abbiamo organizzato un convegno il 24 giugno alla Camera dei Deputati dove parleremo di salute, ambiente e alimentazione. Venite, seguiteci in streaming.